Il partito Sinistra Ecologia e Libertà di Nichi Vendola stamana ha presentato i suoi candidati nel collegio siciliano in vista delle elezioni del 24 e 25 febbraio. Per la Camera dei Deputati capolista sarà Laura Boldrini, portavoce dell'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU. Al Senato invece correrà Francesco Forzone, ex Presidente della Commissione Antimafia. Entrambi i candidati in caso di elezione dovranno scegliere però un solo collegio. Infatti sia Forzone che la Boldrini sono candidati anche in Liguria. Gli altri siciliani di Selle saranno candidati in altre regioni d'Italia, come l'ex candidato alla Presidenza della Regione Claudio Fava, che in questa volta gareggerà lontano alla sua isola, infatti sarà capolista alla Camera in Lombardia. Pronti per queste e le future elezioni, obiettivi e aspettative? Obiettivi tanti, per quanto mi riguarda parto dalle mie competenze, dunque sicuramente ridare credibilità all'Italia, a cominciare da politiche europee che rilanciano l'Italia nel Mediterraneo. Il ruolo di questo mare deve essere completamente rivalutato, sia perché l'Italia è avamposta nel Mediterraneo e nella sponda sud del Mediterraneo tante cose sono successe negli ultimi tempi e poco l'Italia ha fatto per avere un ruolo leader, da protagonista. C'è anche un altro punto su cui io spero di poter fare la mia parte, che è quello del ruolo della donna nella società italiana, perché in questi anni tutte noi che lavoriamo, che ci facciamo strada con la fatica, siamo stati rappresentati in un modo inaccettabile. È uscita dall'Italia l'immagine di un femminile che non risponde a realtà.